Carla Dondi fu ambrogio di anni diciassette, primo impiego steno d'attilo, all'ombra del duomo. Sollecitudine e amore, amore ci vuole al lavoro, si è svelta e sorrida e impara le lingue, le lingue qui dentro, le lingue oggigiorno, capisce dove si trova. TransOcean Limited, qui tutto il mondo, è certo che sarà orgogliosa. Signorina, noi siamo abbonati alle pulizie generali, due volte la settimana, ma il signor Prateca è molto esigente, amore al lavoro, amore all'ambiente, così nello scapuzzino lei trova la scopa e il piumino, sarà a sua prima cura la mattina, ufficio A, ufficio B, ufficio C. Perché non mangi? Adesso che lavori ne hai bisogno, adesso che lavori ne hai diritto, molto di più. Si è lavata nel bagno e poi nel letto si è accarezzata tutta quella sera. Non le mancava niente, c'era tutta, come la sera prima, pure con le mani e la bocca, si cerca, si tocca, si strofina, ha una voglia di piangere, di compatirsi, ma senza fantasia, come può immaginare di commuoversi. Tira il collo all'indietro ed ecco tutto.